Indagini a tutto campo per individuare i malviventi che hanno messo a segno un colpo all'interno del centro commerciale Fano Center. La compagnia Carabinieri di Fano, guidata dal capitano Maximiliano Papale, sta vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, dalle quali potrebbero emergere indizi fondamentali. Erano le 2.45 della notte tra sabato e domenica, quando i malviventi hanno fatto irruzione con due furgoni rubati in precedenza, a Senigallia e a Morciano di Romagna, con un mezzo hanno sfondato una porta laterale di fianco al bar, poi si sono diretti verso il bancomat installato a metà galleria. L'erogatore di banconote è stato divelto e caricato a bordo di un furgone, la colonnina però era collegata tramite allarme e sistema di posizionamento GPS alla centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza Ranger di Fano. Le guardie giurate, una volta ricevuto il segnale, si sono attivate seguendo la posizione inviata dal dispositivo di localizzazione. Sia i furgoni che la colonnina ancora chiusa sono stati ritrovati in un casolare di campagna e ristrutturazione a Carignano. Qui i ladri avevano preparato una pala meccanica munita di martello pneumatico per aprire la cassaforte, ma i banditi, braccati dagli agenti di vigilanza, sono scappati lasciando il bottino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, informati dalle guardie che li hanno condotti sul luogo del ritrovamento e durante l'attività d'indagine è stata rinvenuta una Toyota Aigo precipitate in un dirupo del torrente Arzilla lungo la strada comunale di Carignano. Dopo averla estratta ieri mattina, essandola con un autogru dei Vigili del Fuoco, i pompieri e le forze dell'ordine hanno constatato l'assenza di persone sia all'interno dell'abitacolo che nel tracciato del corso d'acqua. La vettura è risultato rubata poco prima nel borgo di Carignano. Secondo i militari, l'auto potrebbe essere collegata all'assalto, pianificato attentamente dalla banda. Forse era stata preparata per la fuga. Tutti i veicoli sono stati sequestrati, mentre Bancomat, ancora sigillato, sarà riconsegnato all'istituto bancario. E intanto continua la caccia ai ladri. Sono stati provocati dei danni al vostro locale? Fortunatamente no. All'arrivo abbiamo trovato questa situazione un po' caotica, tutto frammentato per terra, il pavimento tutto sporco di vetri. Episodi analoghi non ne avevamo visti finora da quando c'è il Fano Center. Siamo un po' preoccupati, data la situazione un po' di pandemia. Abbiamo paura un po' che la delinquenza possa aumentare sotto questo periodo, date le situazioni economiche della gente. Se no, tutto sommato, il direttore si è comportato molto bene. All'apertura del centro commerciale non c'era nessuna situazione di disasso. I clienti non si sono accorti di nulla, dobbiamo solo attendere che la porta venga ripristinata. Purtroppo i tempi di attesa sono abbastanza lunghi. Ci vorrà un mesetto, il direttore del centro commerciale ci ha detto che prima di un mese non sarà ripristinata. Al momento ci sarà la guardia notturna a vigilare il centro commerciale per motivi di sicurezza. Durante le giornate successive si svolgerà tutto regolarmente.